Sabato 4 giugno siamo a Lentella dove ha appena giurato il nuovo sindaco, il confermato sindaco Carlo Moro. In veste di rappresentante della provincia, come consigliere provinciale c'è anche il dottor Gianni Mariotti che è un nostro amico e che a volte scherzosamente mi rimprovera perché dice non mi intervisti mai, io in realtà come è noto il mio microfono è a disposizione di tutti, allora io ho detto va bene Gianni facciamo un'intervista, discutiamo di qualcosa. Primo punto, la prima cosa di cui voglio discutere con te, oggi è sabato, martedì sera il Partito Democratico tiene un direttivo per discutere la proposta chiaramente anche perché si vota fra un anno di candidato sindaco, lo sapevi questo? No, mi giunge nuovo ma devo dire che è positivo questo fatto che a distanza di un anno dalle elezioni il partito di maggioranza relativa a livello a San Salvo possa naturalmente discutere il futuro candidato sindaco del PD. Come del PD? Del centrosinistra? Il centrosinistra naturalmente tu sai benissimo che il centrosinistra ha optato soprattutto dove il sindaco finisce i suoi due mandati diciamo che ha optato se non si trova un comune denominatore il fatto di andare a delle primarie di coalizione io penso che SEL e la sinistra San Salvo abbia maturato anche il fatto di poter lui stesso, la sinistra, pretendere di candidare un suo candidato sindaco chiaramente dovrà essere valutato nelle primarie è logico che in queste primarie di coalizione ognuno, ogni partito può naturalmente decidere se avere un'ottima chance come candidato sindaco siccome la sinistra ritiene che un candidato sindaco lo può naturalmente esprimere naturalmente opterà per delle primarie di coalizione Va bene, ti ringrazio perché vedi mi conviene intervistarti visto che mi fai fare uno scoop, una bella figura diciamo che con questa intervista noi veniamo a sapere che SEL avrà un suo candidato alle primarie che saranno di coalizione nel centro ma SEL non è SEL di San Salvo diciamo SEL a livello in realtà insomma dove naturalmente non ha trovato una quadra una quadra dove non diciamo ritenevo che il candidato espresso dal PD potesse rappresentare tutta la coalizione ha chiesto sempre delle primarie le primarie come naturalmente tu mi stai dicendo che loro decideranno un anno naturalmente noi valuteremo il loro candidato ma anticipatamente ti posso dire dire che ci sarà uno di voi sarai tu il candidato di SEL no, no, questo non è presto per dire perché insomma noi democraticamente anche noi abbiamo insomma gli organismi negli gli organismi in quale decidere chi sarà il chi potrebbe essere il candidato sindaco di un eventuale primarie di coalizione continuiamo questo discorso delle primarie che mi piace ed è utile analizzando il voto che c'è stato ora il centro-sinistra è notorio ha vinto, anzi ha stravinto le elezioni che si sono appena svolte proprio con questo sistema delle primarie laddove ha individuato i candidati migliori e soprattutto ha risolto i problemi interni come è noto tutti i problemi che c'erano a vasto tra Forte e Lapene e si sono risolti con le primarie dove non l'hanno fatto, cioè al centro-destra hanno perso quindi per non parlare poi dei casi grossi di Milano e di Napoli dove addirittura, soprattutto a Milano il candidato non del PD ha prevalso e poi è diventato sindaco che valutazione dai tu quindi delle primarie e di questo voto amministrativo? le primarie secondo me sono un atto di democrazia diciamo un atto di democrazia in cui naturalmente il candidato non si decide nelle segrete stanze ma si dà la possibilità alla gente di decidere chi naturalmente possa rappresentare al meglio i loro problemi reali io credo che le primarie siano un fatto ma molto molto positivo tanto che il PDL vuole adottare e farebbe bene farebbe bene perché insomma se andrebbe ad una anche da parte di questo centro-destra ad una vera e propria democrazia nella scelta dei propri dirigenti perché fino adesso c'è stato un partito egemone di una persona questo non lo possiamo negare e naturalmente l'agenda ha dato un segnale molto chiaro in quelle realtà in cui naturalmente non credeva che nel PD e nel PDL potesse più rappresentare i loro interessi quindi ecco perché l'ascesa di Pisapia ecco perché la vittoria di Zedda a Cagliari perché l'agenda ha dato un segnale molto molto chiaro cioè noi ci siamo stufati che i partiti i partiti diciamo di maggiore spicco possano naturalmente non tenere presenti i problemi reali dell'agenda l'occupazione, il lavoro la conoscenza, l'università, la scuola sono tutte cose che naturalmente abbiamo credo, io mi ci metto anch'io perché anch'io ho fatto politica fino ad adesso abbiamo diventato ad altri e quindi questo non è più possibile la politica deve riprendere il suo ruolo il proprio ruolo quello di decidere del bene comune dell'agente e l'agente ha diritto di decidere chi è la persona più rappresentata a difendere questi diritti Ti ringrazio per questo, per le cose che hai detto consentimi un'ultima domanda che riguarda l'ente nel quale oggi tu sei impegnato e cioè la provincia che è ben oltre la metà mandato e quindi ti consente di dare un giudizio dell'amministrazione uscente e anche del vostro gruppo di minoranza che insomma è abbastanza battagliero a giudicare anche dai comunicati che mandate insomma voi giornali è vero, tu mi ricordi che oggi credo che c'è il compleanno di Enrico Di Giuseppe Andone non il compleanno di età del presidente del presidente della provincia infatti oggi diciamo fanno due anni che Enrico Di Giuseppe Andone è stato eletto alla provincia sinceramente e francamente mi aspettavo molto di più io diciamo sempre detto all'ex presidente Coletti perché dopo tutto quello che lei ha fatto perché lui mi dice sempre che lui ha speso 170 milioni o 180 milioni nei suoi cinque anni di mandato perché abbiamo perso? questa è una domanda che glielo faccio tutti i giorni e Coletti che ti dice perché ha perso? Coletti mi dice effettivamente rispetto insomma il voto popolare però dopo due anni di amministrazione di centrosinistra caro Orazio devo dirti e l'abbiamo ripetuto nella nostra conferenza stampa di 5-6 giorni fa che non si è fatto e non si sta facendo niente si sta maturando un bilancio che non è neanche veritiero di 170 milioni di euro in cui naturalmente sono messi in questo bilancio tutti i soldi, i trasferimenti regionali e statali degli anni anche precedenti quindi io veramente ti dico sinceramente non ho visto nessuna azione tu pensi che noi abbiamo fatto un anno, due anni fa un emendamento a quanto riguarda la rotonda dell'uscita dell'autostrada Vasto Nord da in cui naturalmente tu credo che vedi le difficoltà che abbiamo in quell'incrocio per entrare alla... abbiamo chiesto di fare una rotonda già iniziata nella precedente amministrazione Coletti sono due anni messo alla prima annualità che non si vede traccia come la rotonda di Sant'Antonio dove c'è stato anche insomma un incidente mortale non ancora si dà inizio a nessuna parte il lotto della Fondovalle Tresta vogliamo dire dove sta? dove sta? questo quella è una parte si è conclusa però ma c'è anche il quinto lotto ci sono i soldi per il quinto lotto e per iniziare anche gli altri lavori e non si sono ancora appaltati rischiamo di perdere 16 milioni di euro della regione perché proprio non si dà luogo a degli appalti per iniziare i lavori inoltre diciamo così per il sociale stiamo vivendo delle ore drammate tu sai come per la regione la regione che ribalta insomma il fatto che non ci sono i trasferimenti allo Stato non è questo è questo che naturalmente ci vuole una scelta ben precisa di quello che si vuole fare per utilizzare le risorse tu devi sapere che a giugno adesso scade il contratto che la provincia da sé utilizzava utilizzava dei fondi profi 150 mila euro 200 mila euro non so diciamo la data il saldo esatto finisce per quanto riguarda l'assistenza disabile ai extrascolari ai disabili questo è un fatto molto grave vuol dire che fra un po' questi si ritroveranno senza assistenza extrascolare nel turismo neanche un soldo per la cultura neanche un soldo ci sono delle istituzioni che devono essere salvaguardate a livello provinciale la settimana Mozartiana lo stesso premio Istonium cioè altre realtà che naturalmente hanno sempre rappresentato un pregio per la provincia di Cheti e non ci sono neanche un finanziamento noi abbiamo fatto degli emendamenti per recuperare almeno 800 mila euro per appunto per indirizzarli specificamente a queste a queste a queste diciamo settori cultura istruzione e sociale e alle